Allora abbiamo già sentito qualcosa dalla professoressa Francesca Poggi, l'argomento è di quelli che farebbe tremare i miei studenti quando sentono parlare di dolo, hanno più o meno sempre questo tipo di reazione, magari sarebbero anche contenti di sapere che le cose non stanno esattamente come magari viene loro detto che stanno. A proposito del dolo, la professoressa Francesca Poggi appartiene a una scuola prestigiosa di filosofia del diritto, quella di Genova, ne abbiamo tre tutte molto in vista oggi pomeriggio perché poi abbiamo anche per la scuola di Sacco la professoressa Ioriatti, quindi siamo meglio di così non potevamo trattarci, il tema credo sia complesso e va a toccare quello che è un po' lo sfondo delle giornali tridentine di retorica, cioè quello che qui ci diciamo rileva in qualche modo per i problemi del ragionamento giudiziale, ecco perché sono particolarmente intrigato da sentire il suo intervento. Prego, grazie. Grazie, vorrei innanzitutto ringraziare gli organizzatori di questo incontro, Maurizio Manzin, Federico Pupo, Serena Tommasi, sono un habitué ormai delle giornate tridentine e sono sempre molto contenta di essere qui, in particolare apprezzo particolarmente questa nuova versione seminariale. Sì, il mio intervento in realtà si colloca abbastanza in linea di continuità con la relazione di Aldo Schiavello sotto un certo profilo, in particolare conferma la crisi del modello analitico ma come modello descrittivo, cioè come modello che aspira a rendere conto di quello che i giuristi fanno. Parlerò infatti oggi del dolo e della sua prova. Come è ben noto nella giurisprudenza e nella dottrina, a fronte di una definizione unitaria di dolo, che è quella fornita dall'articolo 43, primo comma, codice penale, che leggete alle mie spalle, vengono distinte invece tre diverse forme di dolo, che sono il dolo intenzionale, che è quando la gente ha direttamente di mira la realizzazione dell'evento tipico. Nerone dà fuoco alla casa perché vuole uccidere la madre agrippina che ivi sta dormendo. Dolo diretto quando la gente non mira direttamente alla realizzazione dell'evento tipico, ma lo prevede come conseguenza certa o, secondo alcuni, altamente probabile della sua condotta, della sua azione o missione. Nerone dà fuoco alla casa perché vuole incassare i soldi dell'assicurazione, ma sa o ritiene molto probabile che la madre agrippina che inferma, e quindi inabile alla fuga, morirà nell'incendio. Sia poi il dolo eventuale quando invece la gente non mira direttamente alla realizzazione dell'evento tipico, ma, come vedremo secondo la prevalente dottrina di giurisprudenza, lo prevede o lo accetta come conseguenza possibile o probabile della sua azione. Insomma, Nerone dà fuoco alla casa sempre per incassare questi soldi dell'assicurazione. Sa che la madre che dorme lì potrebbe anche morire nell'incendio, ma, nonostante questo, agisce. Comunque vadano le cose, lui agisce accettandone il rischio. Ecco, da questi esempi scolastici potrebbe sembrare che la tripartizione in esame è chiara e a problematica, ma in realtà non è così e questa è un'impressione generata dal modo, ci torneremo dopo, in cui sono costruiti questi esempi. In realtà questa definita tripartizione pone almeno due problemi che sono comuni alla maggior parte degli ordinamenti giuridici occidentali, diciamo così, per usare un'espressione ampia. Il primo problema è quello di reperire in ossequio al principio di stretta legalità che dovrebbe caratterizzare il diritto penale un nucleo comune a queste tre forme di dolo che sia riconducibile al disposto dell'articolo 43 primo comma. È un problema che si pone soprattutto per il dolo eventuale, che di fatto si è posto soprattutto per il dolo eventuale. Non si pone soltanto in quegli ordinamenti penali come il diritto austriaco che codificano espressamente il dolo eventuale come forma di responsabilità dolosa. Il secondo problema è quello di distinguere, sia sul piano concettuale che sotto quello probatorio, queste tre forme di dolo sia tra di loro, quindi attuare una distinzione interna, sia con altri stati intenzionali. Ecco, in questo mio breve intervento cercherò di svolgere innanzitutto qualche considerazione prodromica sulla prova del dolo in generale e poi di approfondire, se ho tempo, un sottoaspetto di questo secondo problema, e cioè la distinzione tra dolo eventuale colpa cosciente. Ora, quindi profili copervatori e concettuali. Ora, è noto come secondo la giurisprudenza il dolo debba essere desunto, cito, debba essere inferito, cito, sulla base di elementi di natura obiettiva, desumibili dalle modalità dell'azione, che siano sintomatici sulla base di una valutazione fondata sulle comuni regole di esperienza della sua esistenza. Ecco, consideriamo il caso più semplice, l'accertamento di un dolo commissivo di evento rispetto ad un delitto commissivo di evento consumato. I reati tentati, i reati di condotto e ancor più quelli di mero pericolo pongono problemi peculiari. Ma consideriamo un caso facile come l'omicidio, un omicidio cagionato attraverso un'azione. Ebbene, in questo caso il ragionamento giudiziario che vuole dimostrare la sussistenza del dolo, può essere ricostruito mediante il seguente schema argomentativo, uno schema argomentativo tipo silogistico. Si tratta di una ricostruzione, non dico che il giudice davvero faccia, ma può essere ricostruito in questo modo. Come premessa maggiore abbiamo una massima di esperienza. Nella maggior parte dei casi, coloro che fanno e vogliono fare A, A1, A2, eccetera, nelle circostanze B da loro conosciute, vogliono causare l'evento C. A, A1 e A2 sono una serie di condotte, azioni e omissioni variamente caratterizzate e descritte. Ad esempio, caspargere la casa di benzina, disattivare il sistema antincendio, chiudere dall'esterno la porta dove la madre sta dormendo. B sono le circostanze concomitanti successive e precedenti alla condotta a causa dell'evento. Avere cattivi i rapporti con la madre, le circostanze di tempo e di luogo, ma anche la conoscenza del nesso causale tra A, A1, A2 e l'evento C. Nel nostro esempio, siccome è un reato di evento, c'è un evento in senso naturalistico. La premessa minore è il fatto noto. Nerone nel tempo T ha fatto e voleva fare A, A1, A2, eccetera, nelle circostanze B da lui conosciute. Si noti, e questo è importante, che all'interno del fatto noto ci sono proposizioni relative a fatti che saranno stati a loro volta provati durante il processo. Nerone ha chiuso a chiave la porta dove dormiva la madre a grippina dall'esterno e così via. Quindi che sono stati provati attraverso a procedimenti che spesso saranno stati anche loro fondati su massima di esperienza. La conclusione è la proposizione che afferma la sussistenza del dolo in quel caso specifico. Nerone nel tempo C, T ha agito con la volontà, l'intenzione di causare C. Ebbene, questo semplice schema argomentativo, ma anche sue più raffinate versioni, non sono validi, non sono in grado di supportare la conclusione. E questo per almeno le seguenti ragioni. Le prime due sono ragioni di carattere generale che valgono nei confronti di tutti i fatti probatori, ma sono ragioni deboli, nel senso che non sussistono necessariamente sempre. La prima è una ragione relativa alla limitazione temporale, il giudice ha disposizione un tempo limitato per accertare la verità dei fatti processuali. Se si accetta un approccio fallibilistico, una visione fallibilistica della conoscenza umana, ciò significa che qualsiasi proposizione fattuale non è che, come scrive Celano, una mera ipotesi che avrebbe bisogno di un tempo infinito per essere verificata. La seconda ragione, limitazioni processuali, dipende dal fatto che, lo sappiamo tutti, ci sono delle regole processuali che limitano i mezzi di prova a cui il giudice può accedere. Anche questa per me è una ragione debole, anche perché molto spesso queste regole processuali sono pensate proprio per tutelare l'imputato, cioè per garantire la verdicità della conclusione giudiziale. Il terzo fattore per cui questo sociologismo non è in grado di provare la sua conclusione, invece riguarda soltanto un tipo particolare di prove, ma anche qua ci torniamo, le prove indiziarie, cioè i casi in cui nel processo si debba accertare un fatto del passato che il giudice non può verificare e constatare direttamente. Secondo alcuni tutti i fatti processuali sono così, secondo me no, possiamo poi tornare, non solo secondo me, possiamo poi tornarci. Perché? Perché la prova indiziaria è sempre necessariamente più incerta nei suoi esiti. La nozione di indizio è discussa, preciso che io intendo per indizio un fatto che si assume noto e che si impiega come base per un ragionamento inferenziale diretto a provare il fatto in cui consiste il reato o un altro fatto del passato che a sua volta valore di indizio. Perché la prova indiziaria ha esiti sempre incerti? Innanzitutto perché in astratto qualsiasi proposizione per quanto metafisica può essere verificata da indizi. Cioè è sempre possibile per ogni proposizione trovare almeno un indizio che la verifichi. Per questo nel diritto si richiede che le presunzioni siano gravi, precisi e concordanti. La forza del ragionamento indiziario dipende dal numero degli indizi, dal loro valore, cioè dal loro rapporto col fatto da provare e dalla massima inferenziale usata, dalla regola usata per passare dall'indizio al fatto da provare. Però proprio questo è il punto dolente della prova del dolo. Nel senso che nella prova del dolo questa regola inferenziale consiste sempre in una massima di esperienza che non ha carattere scientifico. Si tratta però più di una opinione plausibile, di senso comune, formulata in termini probabilistici e formulata per la prima volta ad hoc nel processo in corso. Considerate la massima. Tutti coloro che incegnano volontariamente la propria casa, dopo aver disattivato i sistemi antincendi, aver chiuso a chiave la stanza in cui la propria madre con la quale litigano sovente dorme, nella maggior parte dei casi vogliono la morte di quest'ultima. Questa è un'affermazione di senso comune, plausibile, formulata per la prima volta dal giudice del nostro fantomatico processo Nerone. Guardate che qui quello che è in discussione non è soltanto il problema di distinguere tra massima esperienza vere e massima di esperienza false. Il problema è che non è chiaro quali sono le condizioni di verità della massima di esperienza. Cosa vuol dire nella maggior parte dei casi? Se nel 50%, nel 60%, nel 60% più 1? Questo ci parte un altro problema. Come non sarà sfuggito agli analitici presenti, questo silogismo è invalido anche perché la premessa maggiore è formulata in termini probabilistici e la conclusione in termini assoluti. Questo non va bene, anche se le premesse fossero vere, ciò non garantisce la verità della conclusione, quindi il silogismo è invalido. Al massimo quello che si può concludere è, nella maggior parte dei casi, cioè molto probabilmente Nerone ha agito con la volontà di. Ma questo molto probabilmente può superare ogni ragionevole dubbio? Questo è indicibile, indecidibile, ed è indecidibile perché la massima di esperienza è una massima non scientificamente formulata, perché non sappiamo se quello nella maggior parte dei casi, voglia dire nel 60% dei casi, e allora forse ragionevole dubbio ci resta, o invece nell'80% dei casi, allora forse già siamo propensi a superarlo. Tenendo conto di questi problemi, vorrei tornare un attimo sul problema che mi pone di più, e c'è quello della distinzione, come vi dicevo, tra dole eventuale da un lato e colpa cosciente. Ho già accennato che per la dottrina e la giurisprudenza maggioritare sia dole eventuale, quando l'intento della gente non è diretto alla produzione dell'evento tipico, l'evento è previsto come possibile o probabile, ma la gente accetta il rischio. Non c'è totale unanimità su questa costruzione, però diciamo questa è quella di gran lunga prevalente, ultimamente anche la Cassazione tende a sostenere che la differenza tra le due in conflitto sia irrisoria e non dia risultati diversi. Ora, quello che si dice è che il criterio di distinzione rispetto alla colpa cosciente è l'accettazione del rischio, ma cosa vuol dire? Serve una ponderazione, una valutazione? Per la maggior parte della giurisprudenza no, basta prevedere e agire. Se uno agisce già accetta il rischio. Questo cosa significa? Significa che al di là delle parole la vera differenza si trova sul versante della colpa cosciente. La colpa cosciente è prevista come aggravante nell'avere dei deliti colposi agito nonostante la previsione dell'evento, ma anche in genere sulla norma, sulla colpa, prevede l'elemento della previsione, scusate il gioco di parole. Come costruisce questa dottrina dominante, questa giurisprudenza dominante, la colpa cosciente. Le prime due punti sono uguali al dole eventuale. La differenza è che qui la gente a un certo punto supera il dubbio. Si prospetta l'evento come probabile, non vuole causarlo, ma se lo prospetta come probabile, a un certo punto supera il dubbio. È davvero questo superamento del dubbio il discrimine rispetto al dole eventuale. Questo modo di costruire la colpa cosciente è stato molto criticato. Prima di tutto, come vedete, del superamento del dubbio non c'è traccia nel testo del codice penale. Dal punto di vista psicologico è un po' difficilmente immaginabile. Cioè io salgo in macchina, decido di passare con rosso tutti i semafori perché sono in ritardo, dico magari investo qualcuno, ma no dai. È strano che si arrivi davvero a un completo superamento del dubbio. Certo uno può mettere in campo contromisure, poi se volete ci torniamo, però la dottrina ha mostrato abbastanza bene come queste contromisure non siano necessarie né sufficienti. Non solo è dubbio sotto il profilo normativo, ma perché questa situazione dovrebbe essere punita meno duramente rispetto al dole eventuale. Quindi diciamo, è davvero una costruzione dubbia. Sul piano probatorio poi diventa complicatissima. Si ripropongono tutti i problemi che abbiamo già visto rispetto al caso più facile, quello del dole intenzionale rispetto ad un delitto di evento consumato. Si ripropongono e si acquiscono. Qui cosa bisogna provare? Bisogna provare che la gente sia rappresentato come probabile o possibile l'evento dannoso. Notate non che l'evento dannoso fosse probabile e possibile, ma che la gente se lo sia rappresentato. In secondo luogo, che sia rimasto nel dubbio e allora sia dole eventuale, oppure che si sia formato la soggettiva ed errata convinzione, perché altrimenti non saremmo un processo se l'evento non si fosse verificato, che l'evento non si potesse verificare e solo allora si avrà la colpa cosciente. Quello che sostengo è che in realtà tutto quello che si può ragionevolmente provare è che un agente medio, di media intelligenza, media cultura, avrebbe saputo che, dato un certo fatto, allora si sarebbe potuto produrre un certo evento. Già il passaggio al secondo punto è problematico, cioè provare che in quelle circostanze un agente medio, nella maggior parte dei casi, avrebbe previsto davvero che, data una certa condotta, allora si sarebbe potuto produrre un certo evento. Sul punto vorrei richiamare alcune osservazioni svolte dal filosofo Anthony Kenny sul caso Smith. In Smith cosa succede? Smith è al volante della sua autovettura, a bordo, merce rubata, non si ferma a un posto di blocco, perde il controllo della sua auto, travolge un poliziotto. Come sempre accade in queste ipotesi, in Italia, in Inghilterra, in Spagna, in Francia, si becca a omicidio con dolo eventuale. Sempre. La giurisprudenza su questo punto è quasi unanime. Qual è il test che si applica in Inghilterra? È molto simile a questo, cioè cosa avrebbe previsto un uomo ragionevole, il reasonable man. Kenny giustamente osserva Smith però in questo caso si è fatto prendere dal panico, aveva a bordo merce rubata, c'era il posto di blocco. Un uomo ragionevole si fa prendere dal panico, se no questo criterio non ci serve niente. Se sì, allora il problema è cosa avrebbe previsto un uomo ragionevole in preda al panico, che già è abbastanza un problema controintuitivo. Cosa voglio sostenere? Voglio sostenere che questa, la tripartizione del dolo in generale, ha senso e ci sembra sensata tutte le volte che abbiamo a che fare con casi di premeditazione, ovvero c'è una continuazione temporale di un qualche interesse. Nella maggior parte dei casi invece, noi semplicemente non meditiamo sulle conseguenze delle nostre azioni, per cui porre questo tipo di interrogativi in realtà non aiuta a sapere cosa davvero avrebbe previsto o pensato la gente, ma soltanto un agente medio. Diciamo se da qui poi il punto B, che già come vi dicevo a mio giudizio è problematico, se me lo rimette, grazie. Si passa al punto C, cioè l'agente medio avrebbe o no superato il dubbio dell'evento, i problemi si acquiscono, ma tutto questo non ci porta mai a sapere che cosa davvero la gente avrebbe previsto e se davvero ha accettato il rischio. Grazie. In realtà io ho detto che avevi ancora cinque minuti, non di fermarti. Bene, abbiamo un po' di tempo in più per gli interventi. Prego. Federico Puppo. Rapidissimo, perché poi dopo, alla fine di tutto, vorrei intervenire su Aldo Schiavello. Non è valido perché non in grado di supportare la conclusione, perché ad esempio c'è la natura scientifica dell'indizio. No, la premessa maggiore probabilistica e la conclusione no. Ma poi hai parlato anche di ascientificità. Cosa intendi e se è possibile pensare a qualcosa che sia scientifico all'interno del processo, perché secondo me esattamente questo è il modo in cui si ragiona all'interno del processo, cioè nella maggior parte dei casi. Che poi non sia un silogismo valido, beh, dipende da che tipo di logica noi lo guardiamo. Probabilmente esistono delle logiche capaci di dirci che è un silogismo assolutamente valido, soprattutto se intendiamo come scienza le scienze empiriche, in cui siamo proprio nella probabilità. Mentre la deduzione pura della necessità che da premesse certa arriva a conclusione certa o viceversa, nel processo non si ha. Ecco, questo per il momento, grazie. Giovanni Bombelli? Perché era una mattita timida, non capiva. No, 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 perché stavo pensando a come formulare. Una cosa proprio veloce, veloce. Io vengo da un'università, che è appunto la Cattolica di Milano, che in ambito pedanistico, come lei sa, sicuramente ha fatto dall'oltre ogni ragionevole dubbio un po' il suo vessilo, con la lezione di Stella. Io su questo principio ho sempre avuto molti dubbi, scusa il gioco di parole, c'è il senso che non ho mai capito esattamente cosa sia questa oltre ogni ragionevole dubbio, anche per un'altra, per due ordini di considerazione. Prima perché è un principio che appartiene ad un'altra tradizione giuridica, che non è la nostra. E quindi questo forse pone problemi più di tipo categoriale, prima ancora che diciamo di impatto immediato nell'attività giuridica. Ma poi anche per un altro aspetto, se vuoi, più sostanziale. Cioè, io posso anche giudicare una persona oltre ogni ragionevole dubbio, secondo gli standard anglosassoni, ma se poi mi sbaglio, scusa la banale osservazione, questo muore. Cioè, uno degli aspetti, come dire, più curiosi e peculiari del diritto è che se io sbaglio, quell'altro muore, non posso tornare indietro. Per cui se lo condanno, oltre ogni ragionevole dubbio, poi scopro, appunto, si scopreva negli Stati Uniti che quello non era affatto colpevole, quello comunque è morto. Ecco, io su questo avrei grossi dubbi, perché siccome so, mi dicono appunto i miei colleghi penalisti, che in realtà di questo principio si comincia a fare uso molto ampio, e forse bisognerebbe anche riflettere, come io uso dire con loro, anche proprio sugli aspetti categoriali del diritto, che non sono aspetti astratti, ma che sono aspetti estremamente sostantivi. Solo questo. Dottoressa Serena Tomasi. Grazie per l'intervento. Io ho annotato che nel giudizio sul dolo sussistono alcune limitazioni, di tipo temporale e processuale. Queste limitazioni potrebbero venire meno se si considera appunto che il diritto è anche il linguaggio, cioè il linguaggio del processo, o meglio è un discorso che si verifica nel processo. Quindi, se si intende in questo modo, i criteri di giudizio di questo discorso sul dolo possono essere non solo i criteri della scienza probabilistica, ma probabilmente i criteri di giudizio argomentativo. E allora, la mia proposta è quella di vedere le limitazioni temporali e processuali come i caratteri propri del discorso argomentativo anche sul dolo. Aspetta, prima, il professor Daniele Vero del Brenta che non ha ancora parlato. Grazie. Mi compiaccio con Francesca che sia tornato sul luogo del delitto, la filosofia della mente virando al penale, la qualcosa... Ogni dieci anni mi occupo di dolo, non so com'è sta a stare. Ecco, no, convengo appieno con Federico circa il rilievo, diciamo, intimematico della premessa, però sarò davvero secco, anzi brachilogico. A me interessa un aspetto che mi pare sia rimasto completamente fuori dal tuo discorso, e cioè il tema della personalità della gente. Vale a dire, è facile che Nerone sia un tipo d'autore, o dico male. E' detto da uno che ha studiato l'ombroso. Professor Cossutta, la sua battuta? Siamo sicuri che non stiamo cercando di ricondurre la conclusione di un argomento, di un'argomentazione giuridica all'interno di un processo, a qualcosa che possa ridursi a un giudizio analitico, a un giudizio sintetico. A me pare che, richiamando proprio lo schema dell'abduzione, in particolare dell'entimema, siamo fuori dal giudizio, ovviamente dai giudizi analitici, ovviamente dai giudizi sintetici. Quindi la certezza del diritto è qualcosa di totalmente altro, dalle forme di certezza che noi mutiamo da altre forme di sapere, dovremmo essere consapevoli. Se no, non andiamo oltre, non andremo mai oltre il ragionevole dubbio, da cui il discorso che la professoressa aveva ben evidenziato sul problema dell'indizio, che deve essere complesso e via discorrendo, perché rimarrebbe sempre un ragionevole dubbio e pertanto nessuno potrebbe mai pronunciarsi, né in un senso né nell'altro. Io penso che la professoressa abbia ragione perfettamente nel ragionamento che va sul dolo intenzionale, però credo che ha ragione con riferimento a questo processo e a questo caso, che non penso possa essere elevato però a paradigma assoluto, cioè se anziché il processo non errone parlavamo di un caso molto più chiaro, anziché benzina e quant'altro, tizio, pugnala, caio, si trova il pugnale a casa sua, eccetera, potrebbe dire le stesse cose? E poi velocissimamente non ho capito la conclusione, quindi lei propone che il dolo come categoria... È colpa mia perché non sono ancora arrivata alla conclusione. No, no, non la faccio. No, 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 sì. Noi diciamo, è l'inizio di una ricerca. In caso non rispondo. Sì, sì, no, no. No, se propone alla fine di eliminare il dolo come categoria giuridica, perché questo è giusto. Schiavello e poi risposte. Sì, vorrei un paio di cose, però mi è rimasto un dubbio. Tu hai detto che all'inizio gli indizi, i fatti che entrano in discussione in un processo non sono, a differenza di quello che ritengono molti, a cui mi sembrava ovvio, fatti del passato, tutti fatti del passato, quindi volevo che mi spiegassi perché. Poi, vabbè, questa riprende un po' delle osservazioni che sono state fatte. Applicare la logica scientifica al processo, alla prova, insomma, è la premessa minore, insomma, del sillogismo, che poi non è un sillogismo. Secondo me è un po' fuorviante, perché io direi proprio che queste forme, come oltre ogni ragionevole dubbio o al libero convincimento del giudice, nascondono fondamentalmente, appunto, una scelta esperienziale, in qualche misura, comunque non riconducibile. Non a caso è un ragionevole dubbio, da un certo punto di vista c'è sempre un ragionevole dubbio, è la teoria del sospetto. Vabbè, sì, tu dicevi, si trova il coltello, può essere che qualcuno me l'ha messo per farmi condannare. Ed è ragionevole, avviene nel mondo questo. Però è chiaro che se uno ragioni in questo modo, nessuno può mai essere condannato. Francesca. Sì, grazie a tutti. Allora, inizio con Serena. Ma sì, ma io ne fatti ho l'intuizione che siano limiti deboli, contrariamente a quanto hanno sostenuto altri autori, e probabilmente la tua tesi rende ben conto del perché, è un punto che devo sviluppare, ti ringrazio per l'osservazione. Parto da Federico Pupo. A scientifico, nel senso di non scientificamente formulato, non formulato sulla base, quindi in modo inferenziale da dati scientifici, non scientificamente falsificato, non ci sono studi su questo. nessuna logica che io conosco direbbe mai che questo sirugismo è valido, perché la premessa maggiore è in termini probabilistici e la conclusione è in termini assoluti. Non conosco, un pochino riconosco, ma non ce n'è nessuna che conosco che direbbe che è valido. Nessuna. La conclusione possiamo formularla in termini probabilistici. Sì, ma allora il problema è quanto probabile? In che se... Ah, no, no, ma infatti ora a questo punto torno. Cioè tu mi dici tutti i fatti processuali alla fine sono provati in termini probabilistici. Sono assolutamente d'accordo. Sono assolutamente d'accordo, appa con qualche... Cioè non assolutamente, vado assolutamente al punto di Vito, cioè di Vito, di Aldo, perché le due cose si intersecano. È una tesi molto diffusa, Cordero, Bertis, Ferrua, veramente diffusissime, che tutte le prove siano iniziare. È una tesi che sosteneva anch'io, devo dire che mi ha convinto il contrario Ferrer Beltran, Giordi Ferrer, un po' di anni fa, che mi ha fatto notare che questa era un'assurdità. Nel processo civile il giudice a volte deve provare che il contratto è nullo perché manca una condizione essenziale, il contratto ce l'ha davanti. Il rischio, un altro esempio, è il pericolo di rovina di un edificio, è un pericolo attuale. In genere tutti i 700 i procedimenti d'urgenza avvertono sull'accertamento di stati che sono lì, sono in atto. Quindi no, non è sempre, il giudizio può non essere probabilistico, ci sono casi in cui non lo è, ecco. Forse la maggior parte dei casi però sono sicuramente indiziari e in termini probabilistici. Talvolta la premessa maggiore è una legge scientifica. Purtroppo la prova del DNA è fatta male nel nostro processo, nel senso che in genere viene usata come una prova non indiziaria, mentre indiziaria è anche quella, però lì la probabilità è esplicitata. Nel senso abbiamo delle leggi che, quantomeno c'è stato un tentativo di verifica e di falsificazione scientifica. Quella è una legge scientifica probabilistica ma scientifica. Quindi sì, la probabilità c'è sempre. Infatti, come dicevo, alcuni di questi limiti sono comuni a tutti i fatti processuali, mentre altri sono peculiari, tra cui quello della massima esperienza del dolo. Peculiare non vuol dire esclusivo. Ma sempre, passo un attimo, vediamo, a il professor Porcello, sempre, no, no, non credo, non credo neanche io sempre, cioè che sono convinta, e quello che sostengo è che nella maggior parte dei casi, che nella maggior parte dei casi è così. E a me interessa soprattutto, ora spiego perché sto lavorando su questo, io non voglio eliminare, non lo so, eliminare la categoria del dolo, fare, se sia opportuno, se non sia opportuno, la mia tesi, voleva essere semplicemente una critica al modo in cui viene rappresentato. Perché una cosa da dire, è che guardate che la giurisprudenza è così che lo rappresenta, cioè lo rappresenta secondo questo schema silogistico, dice che dai fatti si desume in base all'idquad plerunque macidit, è proprio il modello con cui presenta il suo ragionamento, anche se poi non è magari quello che ha spinto il giudice a condannare Tizio. Quello che sto pensando di fare è un esperimento di giusrealismo, lo dico subito, nel senso che io ho la sensazione che, non dico tutti i giudici, ma in genere in un certo periodo storico, la Cassazione ad esempio tipicamente, tendono a imputare un fatto come colpa cosciente, o invece come doloso, non in base a un reale accertamento sull'intenzione della gente, ma in base a caratteristiche della condotta, che sono per lo più rintracciabili, in quanto i giudici soggettivamente l'avvertono come pericolosa, neanche nella pericolosità oggettiva. Un caso tipico è l'infezione d'HIV, sia che una persona è affetta d'HIV, lo sa a rapporti sessuali non protetti, sia che siano occasionali, sia che siano continuativi, sia che l'altro sia un amante di cui paresemente non te ne importa nulla, sia che sia tuo marito, tua moglie, è convivente, do l'eventuale. Se il soggetto però muore, e a quel punto allora dovresti dargli omicidio doloso, improvvisamente è colpa cosciente e si dà omicidio colposo. Sempre. Il caso dell'ispettore investito, uguale, sembra sempre doloso. Supero in prossimità di un dosso, c'è il TIR, e causa un incidente stradale. Superare in prossimità di un dosso è un comportamento molto più pericoloso scientificamente, rispetto ad avere rapporti sessuali non protetti, dove la percentuale del contagio mi era anche scritta, ma è bassissima. Non voglio assolutamente incentivare i comportamenti a rischio, ma è, sì, mi sono informata, mi sono informata, è veramente basso. Però è percepito in qualche modo come più pericoloso socialmente rispetto a superare in prossimità di un dosso che invece causa un'infinità di incidenti stradali, a volte mortali, a volte no. Quindi, diciamo, fa parte di questo progetto. Arrivare all'abolizione del dolo, no, non era. Ma, torno a... Oltre ogni ragionevole dubbio, sì, c'è un bel saggio, giusto, ci troviamo prima di Ferrer Beltran, che esamina tutti i significati di oltre ogni ragionevole dubbio. È vero, è problematico, non fa parte della nostra esperienza, possiamo parlare di insufficienza di prove, se ci piace di più. Però io ritengo che siano problemi che meritano in qualche modo di essere sottolineati, ma sicuramente nella relazione poi dovrò approfondire il significato di questa espressione. Quello che semplicemente volevo rimarcare è che non è certo quanto sia certo che date quelle circostanze una persona normale, tra cui Nerone, avrebbe voluto causare la morte della madre se la massima di esperienza si riduce a un'opinione di senso comune. Ecco. Per quanto non vedo altre strade, eh, lo dirò anche questo, non vedo altre strade percorribili, non era quello che volevo sottolineare. La personalità della gente, io ho un atteggiamento antico, odio la psicologia, non entra nessuno nelle mie definizioni di scienza che mi piacciono tanto. Sì, ma, non lo so, gli professori con cui ho studiato antropologia avrebbero da ridire su questo, però sicuramente è un elemento che c'entra, che i giudici valutano quando c'è, non so quanto ha ragione, le persone possono cambiare, non lo so, devo rifletterci, sicuramente i penalisti lo enumerano sempre. Sì, però non credo che si possa, una perizia psicologica deve essere accettata, credo, dall'imputato, non so come mai la disciplina, dovrei studiarla questa cosa, non so che valore abbia anche il nostro diritto. Ah, e dovevo ancora rispondere al professor Cossutta e... E vabbè, posso rispondere al professor Cossutta? No, rispondo dopo, a cena. Eventualmente dopo, penso che sarà possibile. Adesso è il turno della professoressa Elena Ioriatti, con la quale io sento un po' aria di casa, perché è tanti anni che lavoriamo assieme in questa facoltà. Abbiamo avuto due punti di vista che rappresentano due posizioni, ma sempre all'interno della tradizione analitica, come penso sarà anche l'intervento di Silvia Zorzetto più avanti, mentre adesso abbiamo invece il punto di vista della scienza comparatistica. Quindi qui non si tratta più di linguaggio e scienza giuridica, o di linguaggio e argomentazione giuridica, ma di linguaggio e credo traduzione giuridica, nella quale la professoressa Ioriatti è un'esperta. A lei la parola. Grazie, grazie. Io vorrei ringraziare il professor Menzine, il collega Pupo e il comitato scientifico per avermi coinvolta in questo convegno. E per me, devo dire che prima di un onore, è un dono per cui ho già imparato tanto, peraltro per coincidenza io sto scrivendo sul dolo nella responsabilità estracontrattuale in diritto comparato, per cui ho già avuto un gran regalo da questo incontro. Bene, io sono una comparatista e ho cominciato a studiare il diritto dell'Unione Europea con l'approccio della scienza giuridica comparatistica, intesa nella sua concezione più pura, quindi come raccolta di dati come conoscenza, dati che poi possono essere applicati anche a costruzioni reali. Nello studiare il diritto dell'Unione Europea mi sono resa conto che naturalmente il problema, la ricaduta principale problematica di questo diritto è quello applicativo. Applicativo non solo nel senso di attività dell'interprete a livello nazionale, l'applicazione della norma a livello nazionale, ma soprattutto applicativo, secondo i dettami dell'Unione Europea, nel senso di interpretazione uniforme di questo diritto che è formato, come vedremo, con una tecnica molto particolare. e da allora ho cominciato a studiare il linguaggio del diritto dell'Unione Europea e l'ho studiato appunto con la tecnica del diritto comparato ed in particolare quindi con la teoria dei formanti. Però la teoria dei formanti che è stata, diciamo, elaborata da sacco verso la metà del secolo scorso e che vuole il diritto formato da diverse componenti e da diversi modelli che possono essere in competizione, in dissociazione fra loro, ma che comunque ogni modello è un modello valido, anche se storico, anche se abrogato o se passato. Ora, mi sono resa conto nello studio del linguaggio dell'Unione Europea che questo è un tema non molto, diciamo, analizzato, non molto esplorato, anche in particolare dai linguisti. E per me questa è un'occasione molto importante perché ho imparato per esperienza che quando un tema non viene studiato c'è una ragione e non significa semplicemente che se qualcuno lo studia è stato il primo a comprenderne l'interesse. Per cui per me questo è un momento di confronto molto importante. Ora, la mia tesi parte dall'idea che il multilinguismo ha inciso non solo sulla forma di governo dell'Unione, e di questo non parlerò, ma in particolare sulla norma europea, per cui sulla sua formulazione, interpretazione e applicazione a livello nazionale. E questo perché, come vedremo, il multilinguismo comporta una moltiplicazione dei formanti ed una modifica tanto, non solo quantitativa, ma anche qualitativa della norma in termini quindi di formanti. Ora, i caratteri della norma giuridica dell'Unione Europea sono determinati da un procedimento di formulazione della norma molto complesso. Il processo normativo dell'Unione Europea è un processo che prevede l'interazione di organi diversi, si parla di rapporti dialettici fra organi legislativi parziali, ma non solo questo, diciamo che il cuore, il momento principe, diciamo, di formulazione della norma dell'Unione Europea è un contesto particolare che è il gruppo di lavoro dei giuristi linguisti all'interno del quale vengono assicurate la conformità e, diciamo, il parallelismo delle diverse versioni linguistiche. Questa norma, questo momento, è un momento dialettico, ma è un momento in cui inserisce nella norma del diritto dell'Unione Europea un carattere che Gallas, che è uno studioso, definisce diplomatico. Questo perché la norma dell'Unione Europea non avviene solo su base consensuale ed istituzionale, ma diciamo che è una norma che, a differenza della norma che viene, diciamo, formulata in istituzioni sovranazionali diverse dall'Unione Europea, presenta delle caratteristiche che sono tipiche del diritto internazionale. Per cui non è, diciamo, una norma che è creata solo con una funzione precettizia, ma è una norma che ha, diciamo, degli aspetti di carattere diplomatico. È quindi frutto di una negoziazione e è frutto di una negoziazione i cui risultati passano anche attraverso la sua formulazione in termini, diciamo, concettuali. Detto in termini, diciamo, molto semplici e molto pragmatici, all'interno dei gruppi di lavoro siede il cosiddetto rappresentante dello Stato, per cui il delegato nazionale, il quale non ha nel suo mandato una funzione legislativa, ma una funzione politica. Per cui il delegato che lavora fianco a fianco con il giurista e linguista, per ogni lingua interviene sulla norma e quindi sul concetto, ma non con un obiettivo comunicativo, non con l'obiettivo di rendere, diciamo, chiaro il precetto ai destinatari, ma con l'obiettivo di, molto spesso, introdurre degli elementi di politica nazionale all'interno del concetto. E questo lo vediamo in questo esempio, nelle quali, scusatemi l'ironia, probabilmente il delegato italiano ha lavorato bene, perché se voi leggete la norma nella lingua inglese, vedete che l'aggettivo meno favorite può reggere sia regioni che isole, e la stessa cosa nella lingua francese. Mentre il delegato italiano ha fatto sì che questa parola si riferisca solamente alle regioni, di conseguenza, i finanziamenti dell'Unione Europea saranno indirizzati non solamente alle regioni meno favorite, ma a tutte le isole. Mentre nelle altre versioni linguistiche tutte le isole vengono considerate solo se meno favorite. Per cui, questo è il primo punto. Il secondo punto, il multilinguismo presuppone una lingua di comunicazione. Neanche a dirlo, naturalmente, questa lingua di comunicazione è l'inglese, e questo non solamente perché, per tutte le ragioni che non abbiamo, diciamo, modo di analizzare in questa sede, ma anche perché l'inglese è considerato una lingua più vaga. E qui sto utilizzando un termine non tecnico, anche se Mellinkoff, che a sua volta sottolinea la vaghezza degli stessi termini, vaghezza e precisione con riferimento ai linguaggi, sottolinea come in un rapporto relazionale comunque l'inglese ha una caratteristica di maggior vaghezza rispetto alle altre lingue. Per cui, l'inglese è una lingua adorata dai delegati degli stati e viene appunto usata come lingua di comunicazione e come matrice sulla base del quale le altre versioni linguistiche vengono parametrate. Solamente un'informazione molto rapida, quando all'interno del gruppo di lavoro dei giuristi linguisti un giurista linguista o un delegato vuole modificare il proprio testo, tutto il contesto, compreso il rappresentante della commissione deve essere d'accordo ad esclusione della lingua inglese. Per cui la lingua inglese sostanzialmente ha una sorta di posizione privilegiata non scritta, diciamo, di prassi. Questo fa sì che naturalmente la matrice dei termini sia spesso inglese. L'esempio classico è commercial transaction che viene poi risemantizzato in transazione commerciale. Però il problema è determinato dal fatto che la terminologia dell'Unione Europea in realtà è una pura risemantizzazione. Nel senso che l'Unione Europea non ha alle proprie spalle un sistema giuridico o una lingua giuridica uniforme. Per cui per ogni istituto, per ogni regola, contemporaneamente viene utilizzato, viene creato un concetto. E da allora i concetti sono artificiali. sono dei neologismi di chiusura che vengono inseriti nel testo normativo e che vengono considerati, secondo la tecnica, la metodologia comparatistica, delle traduzioni originali ed autentiche che non possono essere messe in discussione. Per cui, teoricamente, il legislatore dell'Unione Europea potrebbe tradurre transazione commerciale con pera in un'altra lingua, però questo ha valore normativo. Però è anche vero che a livello interpretativo queste parole si portano con sé la matrice anglosassone. Ed infatti, a livello nazionale, il giudice che ha, o l'interprete che ha mandato da parte della Corte di Giustizia di fare riferimento a tutte le versioni normative e che, secondo studi, diciamo approfonditi, penso allo studio di Derlène, ad esempio, che ha analizzato più di 160 sentenze, il giudice nazionale in realtà fa riferimento soprattutto alla versione inglese, il giudice istintivamente fa riferimento alla commercial transaction di common law e per cui importa, diciamo, tutta una serie di informazioni che in realtà sono fuorvianti, perché qui stiamo parlando semplicemente di un neologismo. Questi neologismi, peraltro, vengono riutilizzati nel linguaggio giuridico dell'Unione Europea e questo perché colui che redige la norma nel 99% delle volte è un traduttore o un giurista linguista e non un giurista, per cui non c'è rapporto con la scienza giuridica a livello, diciamo, di redazione della norma dell'Unione Europea. Questi termini vengono consolidati attraverso il loro riutilizzo, ma vengono spesso riutilizzati in contesti diversi. Per cui, a livello nazionale, noi abbiamo, diciamo, che arriva un messaggio linguistico identico ma relativo a concetti che in realtà devono avere degli effetti giuridici completamente diversi e questo perché? Perché la stella polare del legislatore europeo in realtà non è il giurista nazionale ma sono dei formulari, delle guide di redazione e queste guide di redazione spesso incitano, richiedono la coerenza terminologica e il riutilizzo dei concetti. Ma non solo. Queste guide richiedono anche una, ecco, scusatemi, ho dimenticato l'esempio, il trattato che istituisce la Comunità Europea all'articolo 52 parlava di assence succursale e filiale che nel trattato vengono tradotte come agenzie succursali e filiari ma il termine figliale italiano e filial francese dal punto di vista giuridico in realtà si riferisce a due istituti diversi. Ma la risemantizzazione, la consolidazione del termine ha fatto sì che il riutilizzo di questi termini in altre direttive ha consolidato sostanzialmente questa polissemia nel diritto dell'Unione Europea. Ora, un'ultima informazione prima di passare all'utilizzo della metodologia comparatistica, il multilinguismo interviene anche come fattore strutturante del testo normativo. Questo perché appunto i formulari, le guide, le indicazioni al redatore impongono che il testo normativo sia coerente non solo dal punto di vista terminologico ma anche dal punto di vista strutturale per cui visivamente il testo nelle varie lingue è richiesto che sia molto simile. Tutto questo naturalmente fa sì che come vedremo fra breve lo spostamento di una parola o di una parte della frase abbia delle ricadute naturalmente dal punto di vista normativo. Ora, l'interprete nazionale di fronte a tutto questo si trova di fronte ad un linguaggio giuridico che è completamente delocalizzato perché mancano quei riferimenti e referenti che sono riconoscibili da parte della comunità giuridica che si serve di questo linguaggio e per cui per l'interprete nazionale questo linguaggio non è un'elaborazione intellettuale ma sostanzialmente è una ricaduta a volte quasi casuale di pratiche consolidate. Allora, la proposta, la mia proposta diciamo negli studi nel libro che ho scritto con riferimento al linguaggio giuridico dell'Unione Europea si riferisce quindi ad una maggior conoscenza della parola europea maggior conoscenza che deve naturalmente che presuppone approcci disciplinari diversi. Da questo punto di vista naturalmente mi pongo in una visione diversa da quella istituzionale burocratica della Commissione dell'Unione Europea che naturalmente si è nel corso del tempo resa conto dei problemi applicativi relativi al linguaggio giurico dell'Unione Europea ed ha proposto un approccio top down ossia il quadro comune di riferimento che forse voi conoscete che è un punto di riferimento linguistico e terminologico emanato a livello della Commissione dell'Unione Europea che ha sì carattere di soft law per cui è una proposta un punto di riferimento non vincolante ma comunque è un approccio top down per cui i concetti vengono definiti a livello dell'Unione Europea e vengono proposti come modello di riferimento. Dal mio punto di vista ho provato diversamente a cercare di avere un approccio più conoscitivo alla parola dell'Unione Europea intesa tanto come concetto che come norma e di conseguenza un approccio che tiene conto diciamo di strumenti sia della comparazione che della linguistica che di metodi di indagine che sono tipici dell'antropologia giuridica. La linguistica ad esempio io non ho trovato diciamo studi di linguistica appunto sul linguaggio giurico dell'Unione Europea e quindi mi chiedo anche la ragione per la quale che probabilmente sarà anche molto semplice ma quanto io ho studiato di linguistica diciamo mi è stato molto utile ad esempio apprendere che per i linguisti il nostro linguaggio deve essere distinto in termini fattuali ed in termini normativi che dal nostro punto di vista sono concetti per cui concetti termini astrati che designano nozioni che permettono di raggruppare diverse cose in un genere mi è stato molto utile proprio perché ho compreso come ad un'analisi linguistica i tratti linguistici non sono sufficienti a distinguere il concetto dal termine che è caratterizzato appunto che è considerato termine fattuale il linguaggio dell'Unione Europea circola attraverso degli strumenti che sono unicamente linguistici c'è un rinvestimento che è unicamente linguistico e questo mi ha consentito di comprendere perché poi la ricaduta a livello nazionale e che diciamo che pesa sul lavoro dell'interprete è una decostruzione del rapporto termine fattuale concetto ossia mi spiego nella terminologia dell'Unione Europea il negozio giuridico che è un termine concettuale categoriale secondo diciamo le nostre categorie nazionali nella terminologia dell'Unione Europea in alcuni atti diviene negozio ora il negozio naturalmente non è un termine fattuale ma è un termine che si pone a metà strada fra il termine fattuale e il termine concettuale categorizzante e di conseguenza è un termine problematico a livello interpretativo per l'interprete quali sono qual è invece l'apporto diciamo del comparatista il comparatista sovrappone al linguaggio giuridico normativo la teoria dei formanti e scopre quindi che questo linguaggio aumenta decuplica la norma giuridica un solo esempio perché non ho molto tempo formanti per la scienza giuridica comparatistica sono le dichiarazioni di scienza le dichiarazioni di scienza sono dei medi logici apparentemente superflui ma in realtà sono degli strumenti di interpretazione importanti se noi leggiamo l'articolo 20 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea vediamo che attualmente è formulato in questo modo è istituita una cittadinanza dell'Unione è cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno stato membro la cittadinanza dell'Unione si aggiunge alla cittadinanza nazionale non la sostituisce eccetera eccetera nella formulazione di questo articolo nel corso dei negoziati al fine di mantenere una struttura identica nelle varie versioni linguistiche è stato proposto di sottrarre dalla norma giuridica la frase che è indicata in azzurro e che dal punto di vista comparatistico è una dichiarazione di scienza per cui un mediologico interpretativo la proposta che poi fortunatamente è stata respinta voleva la norma per cui strutturata in questo modo è istituita una cittadinanza dell'Unione la cittadinanza dell'Unione si aggiunge alla cittadinanza nazionale e non la sostituisce per cui sottraendo quella che dal punto di vista del traduttore è un mediologico superfluo in realtà dal punto di vista giuridico noi abbiamo modificato la norma potrei fare molti altri esempi di sovrapposizione di formanti ma diciamo il tempo corre per cui vorrei semplicemente aggiungere un'ulteriore informazione la scienza giuridica comparatistica ha dei limiti ha dei limiti che noi definiamo con una posizione autocritica epistemologici ossia studia la norma comprese le regole implicite per cui i crittotipi ma non si spinge a studiare che cosa esiste prima della norma o quali sono tutte le dinamiche che comportano la formulazione della norma in quel modo questo è campo di indagine diciamo dell'antropologia giuridica per cui io ho svolto una prova di analisi sottoponendo dei questionari ai giuristi linguisti ai traduttori per cercare di comprendere qual è la ragione per la quale alcuni termini non vengono utilizzati perché mi sono resa conto che nella formulazione della norma esistono anche dei messaggi impliciti esiste il non detto esiste l'imitazione attraverso il non fare per cui questi termini che circolano per consolidazione in realtà vengono appresi dal giovane traduttore per imitazione del traduttore più anziano e per cui esiste uno spazio nel quale i termini non vengono utilizzati semplicemente perché vi è una sorta di accordo implicito tacito di non utilizzo un esempio è il termine negozio giuridico per cui negozio giuridico non è utilizzato a livello legislativo e proprio sulla base di una mia verifica proprio per queste dinamiche questo vale anche per il termine consideration eccetera per cui diciamo che questa mia chiacchierata più che presentazione in realtà è semplicemente una sorta di sasso nello stagno per comprendere se ci possa essere una condivisione diciamo nello studio di questa realtà grazie grazie perfettamente nei tempi un punto di vista molto interessante sulla questione di diritto e linguaggio proprio calato nella realtà dei fatti che più non si potrebbe prego interventi il solo giudice grazie ringrazio la professoressa Iuratti per la sua relazione vorrei proporre una riflessione generale anche una domanda un'impressione alla luce dello studio fatto su questo tema io traduco attraverso questa espressione un po' il senso di fondo che ho colto anche alla luce delle mie categorie di questa relazione ho l'impressione che venga espressa in maniera molto chiara ed efficace una sorta di debolezza ideologica non ingenuità che è cosa diversa ma di debolezza ideologica della semantica giuridica europea è il riferimento alla lingua inglese e ai caratteri della vaghezza strutturali della lingua inglese il riferimento secondo me molto efficace quando si diceva che l'interprete nazionale ha a che fare con referenti giuridici delocalizzati ecco tutto questo credo che comporti questo effetto cioè un diritto che dal punto di vista ideologico cioè dal punto di vista della sua anche portata o pretesa orientativa e così mi ricollego a molte delle riflessioni che già sono emerse sin dalla relazione di Aldo si presenta con una debolezza strutturale la norma è negoziata e quindi non è una norma identitaria non è una norma che tende in maniera chiara e univoca a portare avanti una politica del diritto ma è una norma che è il frutto appunto di una negoziazione e che quindi per forza di cose può riuscire soltanto nel migliore dei casi a gestire situazioni a garantire equilibri ma non a orientare qual è però il problema qui strutturale dal punto di vista giuridico di questo caso che poi è un macro caso ovviamente non è un caso specifico è che mentre nell'ambito del diritto internazionale prevalentemente non esclusivamente ma prevalentemente la norma negoziata la norma frutto di negoziazione si applica poi innanzitutto a rapporti a relazioni internazionali tra soggetti sovrani nel caso del diritto dell'Unione Europea abbiamo un'applicazione diffusa del diritto dell'Unione a tutti i livelli e direi innanzitutto ai rapporti tra i cittadini degli stati nazionali ora questo io ho l'impressione che di fondo incide in maniera strutturale su quello che è la nostra esperienza giuridica contemporanea il nostro diritto e in qualche modo questo mi ricordo un po' le parole di Paolo quando sottolineava il primato di altri saperi o di altri contesti regolativi rispetto al contesto giuridico perché il contesto giuridico diciamo quantomeno europeo che anche a livello nazionale è fortemente condizionato da tutto ciò che accade in termini di produzione normativa a livello dell'Unione Europea sconta questa sua debolezza strutturale questa sua incapacità fino in fondo di regolare i fenomeni faccio un esempio fra tutti ad esempio che mi che mi che mi riguarda in quanto in quanto siciliano in questo momento ad esempio lì l'incapacità di trovare anche categorie giuridiche nella regolazione del flusso dei migranti è addirittura l'incapacità di trovare una omogeneità nella gestione dei confini europei nella regolazione appunto di questi flussi è il sintomo se volete più evidente di questa vera incapacità orientativa perché un soggetto pseudopolitico che non è in grado di gestire in maniera o di orientare dal punto di vista giuridico in maniera univoca il flusso dell'inclusione e dell'esclusione che è il flusso costitutivo di qualsiasi comunità politica è chiaro che è un soggetto debole non ingenuo perché non è ingenua questa impostazione ma debole dal punto di vista ideologico quindi questa era la domanda rispetto al tema in senso stretto poi mi permetto solo di dire che probabilmente la mia impressione si e chiudo è che sin dalla relazione di Aldo ma anche ascoltando Francesca e adesso questo intervento probabilmente si può sottolineare mi permetto di dire come una delle chiavi di lettura più interessanti per leggere il rapporto tra diritto e linguaggio sia proprio la chiave ideologica perché in qualche modo l'ideologia non esiste se non attraverso il linguaggio e l'ideologia non esiste se non attraverso la capacità di orientare e di regolare dei contesti e quindi questa idea del diritto che emerge necessariamente ideologico mi sembra interessante perché probabilmente è una delle chiavi più promettenti per approfondire il rapporto tra diritto e linguaggio attimo microfono la professoressa Ioratti perché è stata una relazione molto stimolante e interessante in realtà io ho una richiesta di chiarimenti la domanda si sovrappone a quella di Alessio lo giudice cioè la mia impressione la mia idea è che il caso del diritto dell'Unione Europea è un caso interessante e paradigmatico di un'istanza più generale cioè di alcune caratteristiche del diritto contemporaneo ovviamente in alcune realtà e di un'ideologia che ci sta dietro caratterizzata genericamente da una maggiore attenzione di quanto non fosse il diritto moderno per la flessibilità ad esempio più che per la certezza e tutti queste caratteristiche che portano all'indeterminatezza del linguaggio consentono proprio di come dire trasferire potere dal alcuni soggetti il legislatore agli interpreti e questo è più genericamente inseribile in quel fenomeno che Riccardo questinica come tanti altri costituzionalizzazione degli ordinamenti giuridici però poi invece la richiesta di chiarimento perché questo proprio non lei ha distinto tra termini fattuali e termini concettuali questa distinzione non l'ho ben capita perché se noi accettiamo che il linguaggio è convenzionale in qualche misura che cos'è un termine fattuale laggiù se no un attimo mi scusi non conosco il suo nome è Sara Greco dell'università della Svizzera e grazie anch'io la ringrazio per la relazione non so se per emettere che non sono giurista ve ne accorgerete da soli comunque domani domani allora no io le vorrei fare una domanda tra le tante che ho rispetto a quello che lei ha chiamato momento diplomatico mi chiedevo se questa negoziazione di cui lei parlava è una negoziazione effettivamente argomentata retorica oppure come a me pareva nell'esempio più una negoziazione tra virgolette silente nel senso che dipende dal in quel caso intuivo io poi magari mi sbaglio cioè è chi scrive che cambia lo scope dell'aggettivo che cambia come l'aggettivo è usato e mi domando se è una negoziazione esplicita appunto per questo dico argomentata oppure se rimane così in termini di conflitto freddo quasi Belluzzi molto velocemente oltre a ringraziare anche io la professoressa Ioratti per il suo bell'intervento volevo chiederle ma siccome io sono un frequentatore di giurisprudenza diciamo così tendenzialmente e tutta la sua relazione è stata incentrata sui problemi relativi alla formazione diciamo così degli enunciati no? Mi pare che però tutti questi problemi possano riproporsi oppure in una qualche misura anche essere da un certo punto di vista risolti o la portata può essere ridotta nel passaggio dall'enunciato alla norma nel momento interpretativo e mi chiedevo sulla base un po' della sua esperienza di studio che è superiore alla mia rispetto alla giurisprudenza europea quale di questi due corni del dilemma diciamo lei direbbe che si sono in qualche misura realizzati o quale dei due si è realizzato perché guardando alla giurisprudenza nazionale pensando per esempio al modo in cui le norme comunitarie vengono interpretate nel momento in cui vengono sollevate questioni pregiudiziali tendenzialmente mi pare che questi problemi si ripropongano spesso rispetto alle risposte che la Corte Europea di Giustizia poi dà alle questioni pregiudiziali rispetto al modo in cui invece la Corte Europea di Giustizia qui ci sono degli studi molto belli del nostro collega Giulio Iscovic sono molto articolati io ne so di meno però quando me ne sono occupato per esempio con riferimento all'analogia giuridica al concetto d'analogia al fatto che linguisticamente la Corte non usi quasi mai la parola analogia non la usa praticamente mai o quasi mai le poche volte in cui lo fa lo fa per dire che non è possibile realizzare un ragionamento analogico però il concetto lo usa a piene mani attraverso altre formule linguistiche che passano per la nozione d'eguaglianza o che sono nozioni derivate da quella d'eguaglianza ma utilizza lo schema tipico del ragionamento analogico e lì diciamo i problemi di traduzione di interpretazione da questo punto si riducono rispetto all'omogeneità invece della struttura di ragionamento e del concetto che viene impiegato non so se questa mia impressione sia confermata o sia soltanto contingente con riferimento all'indagine che io ho fatto per quel concetto tutto qua mi scusi ho perso però il nocciolo della domanda l'idea è se questi problemi relativi diciamo qual è il ruolo del formante giurisprudenziale per dirla in termini sacchiani mettiamola così qual è il ruolo del formante giurisprudenziale rispetto ai problemi che lei ha sollevato nel linguaggio che lei ha sollevato perfetto grazie mi è piaciuta tantissimo questa relazione ho trovato davvero interessante un suggerimento una richiesta invece di chiarimento vaghezza si diceva in senso tecnico del linguaggio inglese direi che è quella che J. Atlas ad esempio chiama non specificità semantica c'è l'idea oggi che le lingue si distinguono per quello che obbligano a dire l'inglese obbliga a dire pochissimo posso dirti I had a dinner with a friend e il sesso dell'amico sono fatti miei in italiano no devo dire se ce l'ha avuto con un'amica o con un amico quindi forse è questo il tipo di vaghezza che è interessante in determinatezza poi noi diremmo semantica c'è obbliga a specificare poco invece non ho capito un punto anche centrale forse l'ho capito forse no anche io conosco il direttore europeo principalmente attraverso gli studi di Giulio Izcovici che tra l'altro si è occupato proprio dei criteri interpretativi della Corte di Giustizia e nel suo scritto sottolinea bene come la Corte di Giustizia sostiene che lei interpreta in base ai propri criteri il significato dei termini nei diritti nazionali non le importano per nulla è interessante perché se a livello politico l'identità è poca invece a livello del formale giuridico c'è questa partita identitaria fortissima quindi io non capisco il fatto che la lingua veicola sia l'inglese dicevi veicola anche una serie di cioè la tesi era che in modo mascherato comunque veicola un richiamo alla giurisprudenza anglosassone al diritto anglosassone cioè quello che non ho capito come perché da una parte sa appunto che sostiene che interpreta in base ai propri criteri ai propri termini che quindi non gli interessa niente i diritti nazionali però dall'altra sembrava che tu dicessi che usando appunto commercial transaction questi termini inglesi in realtà alla fine ci fosse un riferimento implicito quelle norme non so se ho capito bene voglio dei chiarimenti grazie Bombelli molto rapido io provo a sintetizzare se ho capito bene l'intervento che mi è piaciuto moltissimo perché veramente sul campo concreto se abbiamo capito potrei sintetizzare così il diritto a quell'esperienza complessa che direi addirittura la normatività giuridica è quell'esperienza complessa che si lega strettamente alla dimensione linguistica e anche l'antropologia quasi creando una sorta di triangolo concettuale che non è scindibile sostanzialmente e questo il nucleo di fondo dei suoi discorsi e anche poi gli interventi che sono stati formonati questo le chiedo che cosa ne pensa può essere letto sia con le categorie deformanti che anche a me sembrano estremamente utili però forse appartiene già allo stesso come dire sapere classico c'è la famosa pagina della politica di Aristotele dove si dice perché gli uomini stanno insieme stanno insieme perché parlano e perché quando parlano dicono anche il giusto e l'ingiusto cioè non è che semplicemente parlano ma dicono esattamente cercano di dire anche cosa sia il giusto e l'ingiusto allora io sintetizzo questo triangolo concettuale con il termine etos non è che per caso il problema di fondo salta fuori anche dal discorso che aveva fatto sia proprio la mancanza di un etos che sta alla base o meglio che non sta alla base dell'Unione Europea che spiega proprio tutti i processi di appunto delocalizzazione che già sono stati messi in luce nei precedenti interventi ulteriore corollario mi chiedo anche e le chiedo sulla base della sua esperienza in questo campo non è che anche la nozione di diritto in qualche modo viene come dire pregiudicata cioè io non sono sicuro che il termine inglese lo corrisponde esattamente alla nostra esperienza continentale di diritto dello IUS del REST eccetera così come l'intervento del professor Schiavello quando metteva in luce il problema di un profilarsi di una normatività giuridica flessibile qui viene in gioco tutta la categoria continentale del sistema giuridico ecco questo allora viene in meno dell'ethos o mancanza dell'ethos o non profilarsi di un etos in realtà coinvolge direttamente le nozioni di diritto e di sistema giuridico grazie grazie buonasera io partirei da una domanda perché sono un po' nuova di questa materia e vorrei sapere se ho capito bene se lei a un certo punto ha affermato che il limite del metodo epistemologico è quello di studiare la norma ma non andare oltre cioè non spingersi a studiare che cosa c'è prima della norma ho capito bene? io ho detto che noi comparatisti riteniamo di avere un limite ossia che la nostra analisi non va oltre un determinato limite che noi definiamo epistemologico e che questo limite non va oltre la norma nel senso che non studiamo che cosa tutto quanto c'è prima della norma questo non solo come norma esplicita ma anche come norma implicita come crittotipo come norma non espressa perfetto allora da un punto di vista comparatistico e ritornando ai formanti secondo lei la politica di soft law che caratterizza l'attuale momento della politica europea che cosa c'è dietro la politica della dietro questa politica in particolare a fronte delle difficoltà non solo linguistiche certamente linguistiche nel individuare dei termini di applicazione uniforme a 28 stati c'è una sorta di arresa del formante legislativo di fronte a questa difficoltà e una devoluzione al formante giurisprudenziale grazie allora non ho ancora imparato bene forse posso rispondere a lei e anche al scusatemi non ho ancora imparato i nomi al penultimo a lei scusi allora io ho concluso il mio libro affermando che dobbiamo probabilmente rassegnarsi all'idea che il diritto dell'Unione Europea contenga molti formanti declamatori e che questi formanti declamatori in realtà nascondano solo un'ideologia questo perché c'è una grande finzione di fondo nell'Unione Europea e questa finzione è dovuta al fatto che l'origine di questa scelta della stessa armonizzazione del diritto è una scelta che è legata al diritto come strumento per cui il diritto è uno strumento indiretto attraverso il quale si perseguono gli obiettivi dell'Unione del Trattato per cui la creazione del mercato interno per cui il diritto è uno strumento tanto quanto lo è l'economia e per cui viene piegato a delle ragioni diciamo economiche l'obiettivo qual è sostanzialmente di tutta questa costruzione e dell'armonizzazione eliminare le diversità normative fra gli ordinamenti giuridici per cui per veicolare più velocemente sostanzialmente le quattro libertà tutto questo naturalmente ha una debolezza di fondo la debolezza di fondo è determinata dal fatto che alla fine non si cerca una vera effettività della norma giuridica ma si cerca sostanzialmente un veicolo che anche dei caratteri se vogliamo politico democratici e questo lo si vede anche negli stessi formanti io l'ho trovato studiando i formanti un unico esempio che non sono riuscita a fare peraltro mi scuso se sono stata veloce a volte anche forse un po' confusionaria perché le cose da dire sono molte il titolo degli atti secondo le norme di redazione il titolo degli atti dell'Unione Europea ha carattere normativo ma deve veicolare a livello comunicativo ai cittadini degli stati membri un segnale relativo ai propri diritti per cui diciamo che a livello declamatorio diciamo che questo titolo è una norma però a livello stilistico diciamo che in realtà deve semplicemente comunicare qual è il diritto del cittadino questo fa sì che in realtà il titolo a volte contenga delle norme e quindi dei formanti che sono dissociati rispetto alle norme degli atti e questa è ideologia in realtà è un sintomo secondo me del fatto che il diritto è semplicemente uno strumento indiretto ecco non so se sono riuscita a rispondere e dunque caratteristiche del diritto contemporaneo trasferimento del potere all'interprete sì questo è declamato anche a livello forse riesco a rispondere anche alla domanda che mi ha fatto lei lei si scusa di non essere una giurista io mi scuso di non essere una linguista perché utilizzo forse male i termini anche della linguistica nei gruppi di lavoro il rapporto fra il delegato nazionale e il giurista linguista ogni giurista linguista di ogni lingua ha il proprio delegato nazionale è un rapporto di forte contrapposizione e spesso anche come dire di competizione perché mentre perché sostanzialmente protegge diciamo interessi diversi per cui il giurista e linguista deve tutelare il carattere tecnico giuridico del concetto il delegato tutela semplicemente l'interesse nazionale e per cui a volte di quale dei due prevale dipende veramente io l'ho studiato sul campo dal rapporto fra il giurista e il linguista e il delegato e questo fa sì che anche a livello non è declamato però si sa in realtà che poi il problema viene spostato sull'interprete nazionale si scelgono termini vaghi se prevale il delegato il delegato in realtà sceglie a volte un termine vago e scarica sull'interprete poi in realtà il problema è di definire quel determinato termine e la differenza fra termine fattuale e termine normativo l'ho tratta da bel vedere nel digesto delle discipline privatistiche e la voce linguaggio giuridico e ho trovato per me forse sì la riprende da scarpelli nella mia ignoranza è stato illuminante nel senso che io sto facendo degli studi di linguistica però per me è stato molto utile capire questa differenza perché applicando queste categorie linguistiche alla comparazione io ho capito perché a volte a livello perché in determinati casi come nell'esempio del negozio giuridico abbiamo si perde sostanzialmente il carattere concettuale categoriale dei termini nel flusso della formulazione della norma che peraltro e qui riprendo anche la domanda sulla Corte di Giustizia qui è un discorso molto lungo però io perché ho detto che il multilinguismo incide anche sulla forma di governo dell'Unione Europea perché la Corte di Giustizia non ha istituzionalmente un ruolo nel procedimento normativo però al di là del fatto che tutta la dottrina europeista sottolinea il fatto che naturalmente la Corte di Giustizia è ormai un supplente del legislatore ma questo dal punto di vista giuridico dal punto di vista linguistico la Corte di Giustizia ha un ruolo importantissimo perché tutte le volte che la Corte di Giustizia viene investita in forza del rinvio pregiudiziale di una questione che tocca degli aspetti antilinguistici pronunciandosi sulla parola sul termine naturalmente si pronuncia sulla norma attraverso il veicolo del criterio funzionalistico l'interpretazione funzionalistica e questo accade nel 99% dei casi ma ci sono delle ipotesi nelle quali la Corte di Giustizia viene investita proprio del significato delle parole e questo accade lo diciamo scoperto studiando nella maggior parte dei casi quando la parola ha delle polissemie quelli che io ho chiamato i neologismi di senso ossia la parola viene ripresa da un traduttore da un giurista linguista nella sua forma scusate dal punto di vista linguistico non so se si parla di morfologia nell'aspetto diciamo esteriore linguistico noi comparatisti e viene collocata in un contesto diverso dove dovrebbe produrre degli effetti diversi però la parola è uguale allora il giudice nazionale investe la Corte di Giustizia del quesito relativo alla definizione di quella parola gli effetti giuridici e qui la Corte di Giustizia si pronuncia su delle questioni puramente linguistiche ma però in realtà crea diritto perché ricolloca i termini nel loro giusto contesto professoressa Poggi Francesca la domanda era i criteri di interpretativi della Corte di Giustizia la TSS dicendo quando parlavi dell'uso dell'inglese che veicola diritto anglosasso mi riferivo però al formante legislativo mi riferivo all'interpretazione da parte del giudice nazionale della norma compresa nel formante legislativo proprio proprio perché il giudice nazionale sulla base di questo mandato di obbligo di lettura teorica di tutte le versioni linguistiche in realtà fa riferimento soprattutto a quelle inglese e il buon giudice nazionale Zelante di solito che cosa fa va a cercare l'origine inglese del concetto ma in realtà non è così perché quel concetto è delocalizzato anche rispetto al comolo in realtà il soft law che cosa c'è dietro il soft law c'è dietro una mancanza di consenso politico negli stati se gli stati membri avessero dato mandato alla commissione europea di procedere con una armonizzazione massima del diritto europeo noi oggi avremo il codice civile europeo sostitutivo dei codici nazionali ci siamo andati vicini nel 2001 perché il consiglio dell'unione europea ha confermato il desiderio del parlamento europeo di emanare un codice civile europeo unico probabilmente la ragione per la quale non l'abbiamo avuto è l'11 settembre che ha stravolto le politiche dell'unione europea ma non eravamo molto lontani però non vi è consenso negli stati allora il soft law è un strumento di avvicinamento nel senso che la commissione dell'unione europea emana il quadro comune di riferimento ci ricopia sopra scusi il termine non tecnico il diritto comune europeo sulla vendita che è uno strumento di soft law però un regolamento e piano piano opera con un'armonizzazione massima sempre più ampia per cui è questo secondo me ciò che sta dietro al soft law spero di avere risposto grazie abbiamo parlato di traduzione di neologismi in qualche misura anche di calchi linguistici e adesso invece parliamo di prestito semantico non esattamente di prestito lessicale ma semantico con Silvia Zorgetto che lavora all'università di Milano anche lei viene da stirpi illustri professor Mario Iori ma si è formata a Venezia e mi piace ricordare anche questo la cattedra è tua ringrazio il professor Manzin Federico Puppo Serena Tomasi e sono dopo numerosi anni ben felice di poter presentare questo che è davvero un inizio di ricerca e sono felice di discuterne qui con voi anche perché non sono sicura che sia una ricerca che valga la pena essere portata avanti quindi il mio discorso sarà diviso fondamentalmente in tre parti nella prima parte illustrerò quelli che sono con i caratteri generali problemi generali dovuti al rapporto fra lingue naturali e loro impiego in ambito giuridico poi vorrei concentrarmi su alcuni casi giurisprudenziali che sono vedrete un po' particolari però credo che possano essere degli esempi paradigmatici di tendenze in realtà molto più diffuse rispetto a quello che dagli stessi si potrebbe desumere e poi formulare alcune osservazioni finali sulla rilevanza dell'essi coordinario nel diritto allora lo scopo e l'oggetto della ricerca è parte diciamo così da due ipotesi mi scuso se molte delle cose che dirò sono banali ma come dire questo è una ricerca forse un po' per ragioni costitutive che dice delle ovvietà perché come dire sotto l'esperienza di tutti che noi quando parliamo di diritto e a vario titolo utilizziamo comunque delle lingue naturali siano la nostra lingua madre o siano altre lingue per noi per noi stranieri allora quindi la prima ipotesi diciamo che il prestito semantico ordinario sia un elemento essenziale dei diritti vigenti sottolineo due aggettivi della frase essenziale vigenti che forse rendono un po' meno banale l'affermazione e la seconda ipotesi è che il prestito pur essendo generalizzato però non è il limitato e i limiti sono una questione fondamentalmente tutta interna alla pratica giuridica la distinzione fra questioni del primo livello e del secondo livello è decisamente convenzionale e criticabile ma insomma è giusto per fare un po' di ordine ci sono una serie di questioni se vogliamo un po' di cornice quadro generali cioè chiedersi ma qual è il fondamento del prestito semantico ordinario che caratteristiche strutturali ha quali funzioni risponde qual è appunto la sua estensione e questioni di secondo livello che sono se vogliamo un pochino più minute cioè andare più a indagare qual è il grado di rilevanza che di norma normalmente insomma generalmente viene attribuita ai significati ordinari nell'interpretazione dei termini degli enunciati giuridici in quali casi e perché vi sono degli scostamenti rispetto al lessico ordinario e qual è il ruolo dell'intuizione linguistica delle questioni dogmatico degli argomenti giuridici nel far sì che agli stessi segni quando stiamo parlando stiamo in una comunicazione ordinaria il significato sia diverso o uguale rispetto a quando ce lo ritroviamo in una sentenza piuttosto che in una circolare ministeriale o quant'altro allora credo una prima osservazione diciamo così preliminare penso che per discutere di tutte queste questioni si possa in qualche maniera prescindere da un grosso problema cioè che cosa sia una lingua un linguaggio un discorso come si possano definire non voglio entrare qui in questo ginepraio di problemi in senso minimale qui vedete delle definizioni davvero molto stringate e approssimative di lingua linguaggio e discorso dico che è un ginepraio perché basti vedere che tutte queste definizioni che sono un po' così un vero senso minimale di quelle definizioni molto circolanti nella filosofia dei diritti nella linguistica sono tutte circolari quindi come dire non sappiamo bene da quale parte partire cioè se viene prima la lingua se vengono prima le singole istanze se vengono prima le regole del linguaggio eccetera ma come dire il tentativo è di dire questo problema di metodo possiamo forse accantonarlo e partiamo da quello che è altruismo cioè una banalità allora i diritti vigenti fanno uso delle lingue naturali perfetto fanno uso sia per descrivere sia per prescrivere e non sempre per dire la verità sempre in una stessa in una sola lingua allora sia nella storia del diritto della comparazione giuridica mostrano che questa non è una caratteristica come dire contingente del diritto moderno occidentale nei diritti basati sulla scrittura anche gli aspetti orali del diritto quindi non c'è differenza in questo senso fra diritti orali diritti scritti o tradizioni orali scritte per quanto riguarda i diritti consuetudinari in cui c'è un problema ulteriore se in che misura siano basati su linguaggio oppure su segni e in realtà comunque abbiamo se vogliamo dei fenomeni di mimetismo tra quella che è la poi costruzione delle consuetudini giuridiche a partire da quelle che sono le regole di comportamento che sono inferibili dai comportamenti naturalmente i diritti diciamo vigenti possono trovare di fatto trovano naturalmente manifestazioni anche in elementi non linguistici ma questo non esclude il fatto che poi una grossa parte mettiamola così del diritti sia basata su segni linguistici e forse sono anche possibili in linea teorica diritti in cui si faccia uso di segni non linguistici sui soli ho messo un punto di domanda perché ho forti perplessità pensando a ipotesi molto particolari o di costruzione per via di ricostruzione teorica o esperienze legate davvero ai primordi della storia dell'uomo si può ipotizzare che bastasse come dire mettere una pietra e quello fosse in qualche maniera già distituisse una forma di primordiale regolamentazione delimitazione dell'appropriazione eccetera ma come dire da qui in poi oggi i diritti sono basati sull'uso di segni fondamentalmente linguistici anche se non solo e che hanno sicuramente anche dei prestiti da linguaggi artificiali linguaggi settoriali eccetera ma su tutti questi caratteristiche sono oggi se vogliamo caratterizzano per ambiti particolari i diritti non sono queste caratteristiche diciamo di larga scala mettiamola così perché il prestito semiotico della lingua naturale è un elemento essenziale dei diritti vigenti lo direi perché per ragioni costitutive cioè il diritto vigente è fatto per regolare la vita di una comunità di riferimento e quindi deve essere dotato come dire di un minimo di effettività perché se no banalmente non è vigente sia a livello di credenze sia nei fatti la gente un minimo ci deve credere per lo meno in qualcosa che sia il diritto anche se non sa bene cosa sia e poi deve anche un minimo seguire anche le regole perché se non c'è del tutto effettività non abbiamo un diritto vigente abbiamo qualcos'altro un diritto ma non un diritto vigente poi le norme giuridiche in questo senso quindi devono essere minimamente comprese quantomeno in via minimale sia dagli autori sia dai destinatari quindi devono essere formulate almeno poter essere formulate tramite un canale che serve a questo e alla fine come dire il mezzo più efficace che noi abbiamo a disposizione è la lingua naturale che viene parlata dalla comunità di riferimento non solo perché è il canale primario di comunicazione ma perché in qualche maniera la lingua madre è come dire un deposito di quelle che sono le conoscenze essenziali per capire non solo quello che è il cosiddetto dizionario ma l'enciclopedia che ci sta dietro cioè tutta quella massa di conoscenze implicite che ci servono poi per in realtà capire e distinguere i segni gli uni dagli altri e attribuirli un significato ci sono anche delle altre caratteristiche cioè le lingue naturali si evolvono nel tempo nei vari contesti di situazioni quindi presentano dei caratteri che dipendono davvero dal modo in cui sono parlate eccetera e quindi permettono in questo anche di avere un adattamento per il futuro come dire il diritto è qualcosa che vive e quindi la lingua e il diritto in questo senso sono come dire tutti e due se vogliamo due artefatti e sono due sistemi di regole che sono vivi e la cui permanenza dipende da cosa gli uomini pensano e fanno non è però solo non è un problema di fatto e non è un elemento neutro il fatto che la lingua si basi su che il diritto si basi sul prestito della lingua naturale cioè il fatto che si usi una lingua è un fatto istituzionale e che coinvolge una fondamentale sul piano dei valori nel senso che l'uso di una lingua piuttosto che di un'altra in realtà porta con sé un problema fondamentalmente di allocazione del potere il parlare usare il fatto che il diritto si esprime in una lingua piuttosto che in un'altra è stata ed è oggetto naturalmente di rimedicazioni tanto che quello che conta poi alla fine è l'ufficialità della lingua e quello che conta è appunto che sia la versione per esempio nei testi internazionali che siano quelle versioni autentiche e c'è una grossa lotta su il fatto che sia l'una lingua anziché l'altra ad essere la versione ufficiale o la versione autentica i valori che possono essere in questo senso connaturati all'uso delle lingue sono molteplici sono fattori identitari problemi di supremazio sul piano politico ma anche di altro tipo cioè per segni di apertura o chiusura rispetto ad altre culture o di conservazione della tradizione e innovazione sono tutti elementi un po' diversi perché l'apertura o la chiusura rispetto ad altre culture non necessariamente diciamo riguarda il può avere ripercussioni sul piano riportare a quella che è una vera e propria supremazia sul piano politico e la tradizione di innovazione possono anche prescindere dal fatto di appartenere a una certa cultura o meno quindi poi questi dettagli in realtà si vedono nella pratica giurisprudenziale quindi allora che il diritto parli una lingua naturale il problema è quale? parla una ne parla ma il problema è quale allora si poteva partire dalle minoranze e le maggioranze questo si fa forse più come dire efficace partire dalle minoranze perché allora la minoranza linguistica può assumere un ruolo egemonico sul piano politico l'ho assunto molte volte nella storia e quindi in quel caso noi abbiamo che la minoranza la lingua si parla la lingua della minoranza oppure ci può essere una sorta di parità di trattamento e quindi c'è il principio di uguale autenticità delle lingue che è quello che fondamentalmente oggi regola proprio le lingue all'interno dell'Unione Europea perché noi abbiamo una pluralità di lingue e sono tutte quante il principio che le dovrebbe governare ideologico che sia o vero o falso che sia poi sul piano della traduzione i traduttori ci dicono che è impossibile che ci sono perfetta eguaglianza di versioni ma a livello di declamazioni il principio di uguale autenticità è quello che regola le varie versioni di tutti i testi dell'Unione Europea la situazione è poi quella delle minoranze linguistiche che sono soggette a legge della maggioranza e va bene e quindi il diritto naturalmente si esprime in quello della maggioranza dei senatari e di qui poi tutte le eccezioni relative alle minoranze linguistiche allora qui il pluralismo linguistico appunto non dico nulla perché diciamo direi solo delle cose più che perdonate molto semplificate rispetto a quelle che sono state dette finora quello che vorrei solo sottolineare prima di passare alle cose che l'esperienza dell'Unione Europea forse in questo è molto più complessa rispetto a quelle che caratterizzano o poli di confronto tipici tradizionali per esempio Belgio Svizzera Finlandia eccetera esperienze di questo tipo perché come dire la quantità di testi che noi dobbiamo dominare la quantità contemporanea di lingue di traduzioni giuridiche in questo caso ha conseguenze anche su quella che è poi la qualità e alla fine l'unitarietà e la possibilità di forse quando dobbiamo confrontare due testi è un conto quando ne dobbiamo confrontare 24 con 24 ordinamenti diversi con tradizioni diverse diventa il problema cambia anche sul piano qualitativo allora ci sono per quanto riguarda ci sono moltissimi studi che si occupano di capire se e in che misura sia possibile individuare il ruolo della comunicazione del linguaggio ordinario rispetto in ambito giuridico e una delle cosiddette terminografie che ovviamente si occupa di capire se quale sia il preciso semantico tra le varie lingue naturali e gli usi giuridici allora qui iniziano una serie di casi andrò molto veloce non servono diciamo più a me per ricordarmi tutti questi esempi che non avevo per leggere li riassumo io così vediamo allora il primo esempio è una decisione molto nota della giustizia internazionale e qui il problema era che cosa si intendesse con obiettos de commercio o in inglese with articles of trade il problema è che una parte Nicaragua e l'altra la Costa Rica sostengono due tesi opposte uno che si debba intendere Costa Rica nel senso che abbiano fini commerciali o piuttosto che invece riguardino le tesi del Nicaragua oggetti di commercio in senso materiale quindi l'opposizione tra il senso diciamo così concreto o astratto la decisione del del tribunale è che il senso da accogliere sia quello astratto perché si dice nel contesto della frase in cui queste due parole sono inserite non farebbe senso sarebbe priva di senso l'interpretazione diciamo così concreta del significato quindi tenendolo come oggetto a sostegno di questa tesi porta poi tre ulteriori argomenti e dice che basati fondamentalmente su ragioni due sull'argomento della ragionevolezza che e un terzo su quello che era stata la prassi delle parti cioè tutte e due poi alla fine in una traduzione avevano tradotto con in senso astratto for purposes of commerce in realtà questo viene considerato un argomento di nessuna rilevanza poi alla fine quindi quello che conta fondamentalmente è il fatto che un senso anziché l'altro portasse all'intero inunciato ad essere privo di significato e il fatto che sulla base di quelle che sono delle assunzioni di ragionevolezza fosse ragionevole credere che le parti avessero inteso parlare di quelli che sono fini commerciali della disciplina in questione quello questa parte di discussione riguardava se vogliamo la parte oggetto poi si è discusso anche dalla parte commercio e qui il problema era ma per commercio noi dobbiamo intendere solamente il commercio di beni o anche di servizi quindi cose o persone la tesi è stata dobbiamo intendere sia anche le persone i vi compresi i turisti quello che conta è il fatto che ci sia un corrispettivo e la tesi viene argomentata sulla base della genericità del termine sul fatto che si deve assumere come ragionevole che le parti quando intendono usare un termine così generico come individuante una classe ampia come quella del commercio intendono comunque anche fra l'altro adeguarsi a quello che è il significato e siccome una volta magari si commerciavano lungo il fiume in questione cose ma poi da un certo punto in poi o comunque tutto usuale che ci passino le persone bisogna intendere che ci passino anche le persone altri un secondo esempio riguarda invece una clausola un load dell'ICC che riguarda l'interpretazione di International Albitration Court qui si discute la clausola è ambigua vengono utilizzati una serie di criteri il problema è capire se intendevano le parti individuare proprio l'ICC oppure un'altra istituzione arbitrale nazionale qui sono pagine in cui si fanno un confronto su quelli che sono gli usi linguistici ordinari nella lingua inglese e in un'altra lingua in cui era stato scritto il contratto addirittura si chiamano degli esperti linguisti per analizzare le clausole in questione si va a vedere sul piano statistico quanto erano parti degli stati in questa causa in questo arbitrato quanti di arbitrati che avevano coinvolto quelle parti erano state devolute o meno all'ICC oppure ad altri alla fine nessuno dei criteri riescono di fatto a capire cosa volessero le parti in conclusione e gli arbitri dicono noi ci riteniamo incompetenti perché non abbiamo capito che cosa da chi voleste andare poi altro caso il Tribunale dell'Unione Europea qui il problema è se quando noi scriviamo 4 ever oppure forever se c'è un problema di confondibilità o meno dei marchi eccetera la giurisprudenza in materia di diritti della proprietà intellettuale è molto ampia e ci sono tutta una serie di pronunce che fanno analisi molto puntuali e accurate su quello che è la comprensione e la capacità dei parlanti di una certa lingua di comprendere sul piano semantico e lessicale distinguere i suoni eccetera dei parlanti in una lingua piuttosto che in un'altra qui erano prima erano coinvolti i portoghesi e gli inglesi qui abbiamo il problema invece della distinzione fra i vari marchi originari Oscar dell'Academy e una serie di tre marchi Oscar che ce ne sono ben 230 perché si dice che comunque l'Oscar tutti lo distinguono rispetto agli altri a prescindere dal fatto che si usillano gli stessi segni enormi discussioni attorno alle nozioni di interesse e vantaggio nella disciplina della responsabilità degli enti ma discusso anche cosa si intende sul team e qui si fa diretto riferimento al linguaggio al dizionario ordinario altri problemi con diretti richiami ai dizionari proprio della lingua italiana si fa riferimento allo zingarello anziché al devoto olio eccetera sono tra i dizionari più gettonati cosa si intende per addestrato per assimilabile che differenza ci sia con affine identico problemi distinguere terrazze porticati tettoi eccetera sull'affiliazione sindacale le convinzioni personali qui con un continuo richiamo e discussione anche su quella che è la disciplina dell'Unione Europea della carta di inizia eccetera questo qui è il caso FIOM quindi comunque sono tutte decisioni come dire che hanno un loro impatto poi anche effettivo insomma diciamo così questioni di peso se vogliamo anche sul piano politico si discute di cani e di lupi si discute di sbarra problema questo meno meno ridicolo su tutti i reati in materia di violenza sessuale eccetera perché quello che contano sono le testimonianze al lessico che usano i bambini nel testimoniare per esempio nota di colore nel problema di vari reati diciamo del tipo di diffamazione ingiuria eccetera ci sono enormi discussioni e si registrano quelli che sono gli usi oggi correnti con un'attenzione ad errori linguistici che fanno le persone eccetera per valutare quale fosse il grado di offensività dell'espressione eccetera allora andando un pochino diciamo così arrivando un po' alle conclusioni finali quello che si potrebbe dire è che sul piano del fondamento il problema è da un lato quello di un'effettività nel senso proprio di un fatto e dall'altro è un problema di potere politico il prestito si colloca a livello io direi della lingua cioè del sistema lessicale nel suo complesso sia il dizionario sia l'enciclopedia le funzioni quella basilaria quella di una comprensione generalizzata intuitiva delle norme poi ci possono essere una serie di funzioni secondarie eventuali molto ampie cioè poter avere un parallelismo con l'evoluzione degli usi riprendere una genericità del lessico ordinario l'importazione di però specifiche implicazioni pragmatiche di certi termini del linguaggio ordinario che sono in realtà molto specifici eccetera sul piano degli segni l'estensione del prestito è enorme perché in realtà lo abbiamo visto anche prima con l'esempio della transazione commerciale quello che è il neologismo è l'abbinamento dei due ma sia transazione che commerciale sono termini del dizionario italiano il problema è l'abbinamento quindi quello che conta poi nella creazione dei nuovi significati è la combinazione di parole la combinazione inusuale di singole parole quello che normalmente succede è direi che ci sono è massima anche sul piano dei significati cioè il prestito semantico è diciamo così totale se vogliamo con le eccezioni cioè i termini che poi hanno un significato anche giuridico specifico cioè il concetto di presupposizione intesa come istituto del diritto contratuale eccetera non ha niente a che fare con la presupposizione di cui parliamo ordinariamente ma anche i giuristi parlano di presupposizione nell'altro senso ci sono c'è un'altra situazione però in cui invece termini che non hanno questa ambiguità mettiamola così ormai consolidata costitutiva ma sono dovuti contestati sì chiudo subito un minuto solo ok solo un altro minuto allora la contestazione può riguardare potenzialmente ogni termine e a livello micro cioè riguarda il singolo termine tendenzialmente non ci sono differenze apprezzabili sul piano di conflittualità proprio riguardo alla caratteristica dei termini cioè quelli cosiddetti fattuali di prima cioè con un referente empirico valutativi che presentano connotazioni giuriche eccetera già dagli esempi di prima si discute dalla E al vantaggio al contratto al bosco al direttamente quello che succede è che una poi delle dimensioni semantiche del linguaggio ordinario viene come dire scelta a livello interpretativo e com'è che viene scelta non è vero direi che i giuristi sono ingenui sul piano semantico niente affatto fanno tutta una serie di discettazioni molto minute puntuali sulle proprio anzi la rilevanza delle differenze semioticamente rilevanti prove di sostituzione e quant'altro semmai poi c'è un problema di deficit argomentativo cioè diciamo ma quella soluzione lì me la potevi argomentare meglio perché l'argomentazione viene esposta e le intuizioni linguistiche ordinarie sono una base fondamentale che viene utilizzata e quelle che in ogni caso variano gli argomenti che possono giustificare lo scostamento o l'adesione al senso ordinario non ci sono come dire argomenti che vanno necessariamente appaiati anche se e questo è significativo naturalmente quando si deve arrivare ad un esito che è quello dell'adesione si usano argomenti come quello della ragionalezza come senso comune quello evolutivo o quello statistico orientato alle conseguenze e quando invece l'argomento a supporto dello scostamento quello delle costituzioni dogmatiche oppure l'intenzione del legislatore bene question time grazie Silvia domanda tu hai citato nelle ragioni fondamentali del prestito semantico effettività potere mi domando se cosa pensi a proposito anche del ruolo di ciò che potremmo chiamare equità cioè fondamentalmente se pensi a un sistema ai ragionamenti che si fanno in common law l'idea di stare vicini al linguaggio ordinario è considerato un modo per rendere il diritto non solo effettivo e efficace ma anche più equo perché più persone hanno accesso al diritto il diritto non diventa un linguaggio tecnico nelle mani di una casta di sacerdoti che funge da mediazione tra lo Stato e il cittadino mi domando che pensa all'idea io sempre mi sono colpito dall'uso del termine dolo nel diritto italiano qualsiasi avvocato inglese direbbe perché devi chiamarlo dolo chiamalo intenzione se il punto è l'intenzione è un esempio tipico quindi cosa pensi del ruolo dell'equità nell'uso del linguaggio ordinario è gioco sotto o logoroico voi mi scuserete oggi ma domani sto zitto a me pare che lo studio che la dottoressa Zorzetto ci propone sarà sicuramente interessante come tutti quelli che ha condotto soprattutto perché probabilmente potrebbe arrivare a delle conclusioni molto molto importanti molto interessanti linguaggio ordinario o linguaggio naturale con il diritto vigente il linguaggio naturale è un sistema aperto nel senso che i termini dello stesso acquistano significato all'interno di un determinato contesto ed è sempre costantemente in evoluzione è l'esatto contrario del linguaggio artificiale il linguaggio artificiale non muta se non attraverso una definizione stipulativa quindi diremo noi se non attraverso un'autorità competente il linguaggio naturale muta si evolve in assenza di un'autorità competente è qualcosa di fluido ora a me pare che il problema non sia tanto legare questo linguaggio o meglio sciacquare all'interno di questo linguaggio il linguaggio settoriale giuridico tanto per ritornare a quella voce che è stata richiamata dalla collega prima il problema non è questo il problema secondo me è legare il diritto vigente a un sistema aperto in modo tale da evidenziare come lo stesso diritto vigente sia un sistema di fatto aperto che muta attraverso l'opera di interpretazione che è sempre più vicina l'opera di interpretatio l'esecrata interpretatio ed è quindi un diritto fluido che acquista significato nel suo vivere ad esempio qualcuno diceva all'interno del processo in linguaggio ordinario il diritto vigente ma ci fa capire allora che il diritto vigente fa rende da vigore a quelli che sono i luoghi comuni vigenti i valori sociali nuovamente ritorniamo al problema dei valori sociali i valori sociali mutano muta anche il diritto vigente pur non mutando nella sua forma linguistica centralità allora dell'interpretazione di un diritto fluido un'interpretazione che però a questo punto è intersistemica non potrà più essere intrasistemica non potremo più guardare il discorso giuidico in sé per sé e qua la prima e mirabile relazione che è stata presentata oggi il discorso giuidico è tale nel momento in cui non è solo un discorso legato alle disposizioni ma è legato a tutto un insieme di valori sociali di cui il linguaggio comune è testimoniano la norma giuridica cioè torno di nuovo a Crisafulli taglio ho iniziato con Crisafulli finisco con Crisafulli distinzione fra disposizione e norma ma non stiamo a dimenticarci queste banalità perché è su queste banalità che noi possiamo fare giurisprudenza grazie una domanda che forse più che una domanda è una richiesta di chiarimento sulle premesse del tuo discorso che non sono sicuro di aver capito bene quindi in caso bloccami tu se non sbaglio dici che il prestito semiotico al linguaggio ordinario è un elemento non essenziale del diritto non è un elemento necessario del diritto è perché è fatto degli esempi che è possibile immaginare in linea almeno ipotetica dei diritti che funzionano con simboli extralinguistici e basta diciamo una pietra un segnale eccetera beh direi che però questa non è una secondo me una grande differenza perché i termini i simboli extralinguistici sono traducibili in simboli in simboli linguistici quindi io direi che dal tuo punto di vista c'è una necessità di un prestito semiotico concettualmente direi per il diritto sempre e comunque e tu almeno perché è un argomento che hai dato è un argomento funzionalista il diritto io sono d'accordo deve incidere sul comportamento delle persone per incidere sul comportamento delle persone che non sono tendenzialmente giuristi deve essere comprensibile a queste persone io direi che però è possibile immaginare una ricostruzione diversa che rende questo legame non necessario mi è venuto in mente per esempio un racconto di Kafka su cui Francesco ha scritto un articolo molto bello la questione delle leggi il diritto può funzionare anche non esistendo con un diritto segreto esoterico che è gestito soltanto da un gruppo di nobili magari non esiste nemmeno quelli puniscono a piacimento però in questo modo si crea una prassi quasi in modo forse pavloviano quindi si incide sul comportamento senza alcun collegamento con il significato delle parole oppure come dicono i realisti americani più estremi sì beh ci sono parole del linguaggio ordinario ma sono così vaghe gli enunciati sono così tanti che poi il giudice l'interpre fa quello che vuole scegliendo quindi è solo un'illusione che il comportamento sia indirizzato da norme generali astratte ma appunto magari guidato da altre in altri modi o appunto con norme individuali creata dagli interpi proprio in maniera direi proprio una reazione a delle azioni che poi induce un comportamento di un certo tipo come i cani di Pavlov no no perché abbiamo sette minuti dopo i quali dobbiamo allora la prima domanda sull'equità sì nel senso però in cui si parla di equiti nella tradizione di common law cui facevi riferimento tu non l'equità di cui abbiamo diciamo che invece secondo la categoria nostra però per quanto riguarda ha sicuramente una rilevanza e credo che sia ci devo ci dovrei riflettere intuitivamente non l'avevo aggiunto come terzo elemento in questa prima fase perché forse sbagliando tendevo a scenderla come categoria diciamo così spalmandola sulle altre due quella dell'effettività e quella del potere forse sbagliando però perché la concezione dei liquidi della common law non è l'idea che ci di una se la intendiamo nei sensi più particolari forti come una sorta di giustizia di moralità eccetera diventa controverso perché non è più una concezione condivisa ma solo per alcune posizioni quello che è invece forse invece l'effettività e il potere sono due elementi che possiamo considerare ok se inteso in questo senso molto lasso allora diventa quella che è l'effettività potrei riconsiderare e esserlo considerarlo come più efficace il sostituire il termine che uso io con quello che mi stai proponendo che forse è più chiaro rispetto ti ringrazio per il suggerimento ok e poi per quanto riguarda la seconda questione allora credo che penso che la casistica giurisprudenziale che ho individuato che per carità è un minuscolo campionario lo mostri in realtà i giudici come dire sono ben consapevoli della distinzione fra disposizione e norma fra segni e significati o come vogliamo intenderla e definirla in questo sono molto più ingenivi come spesso vengono dipinti sinceramente anzi sul piano linguistico sono molto più accorti e attenti di quanto si di quanto si pensi non tutte le cose naturalmente poi si trovano discusse apertamente nelle sentenze ma la sensazione che il grado di consapevolezza linguistica sia decisamente alto e il grado non deve stupire perché banalmente la cassazione non solo la cassazione anche l'altra giurisprudenza poi un altro conto è che noi non condividiamo le scelte che vengono fatte ma non che non ci sia un'attenzione per le pluralità e possibilità di significati magari poi non ci comoda che abbia scelto quel significato lì però il tipo di esercizio sul piano linguistico che ha fatto non è di una persona che come dire è ingenua ha scelto a caso è ignorante il che è più che ovvio perché come dire sono parlanti di quella lingua quindi non è che sono extraterrestri le abilità linguistiche sono le stesse abilità linguistiche che abbiamo noi che diciamo così magari poi critichiamo la scelta la scelta in questione per quanto riguarda la questione invece sulla apertura sì il fatto di usare il linguaggio ordinario può portare ad un'apertura però questo non è un elemento allora terrei a distinguere il fatto che poi comunque c'è l'intervento se vogliamo di quella che è l'amministrazione cioè da parte dei significati giuridici da parte di quelle che sono le autorità per cui il fatto che poi ci sia un'evoluzione parallela dei significati giuridici rispetto a quelli ordinari non è una cosa che avviene come dire spontaneamente se la Cassazione decide domani mattina di aggiornare e dire assi bene siccome oggi questo significato qui è leggermente diverso rispetto a quello che utilizzavamo 15 anni fa e a me va bene continuare a seguire come dice il cambiamento gli usi linguistici cambiano altrimenti potrebbe anche dire no noi dobbiamo fermarci a quello che in certi momenti storici tendono di più a seguire quelli che sono gli usi linguistici ordinari o meno e quelli sono problemi di politica del diritto dipende dalle situazioni dai contesti dalle circostanze in certi ambiti vengono accolti in altri no dipende che tipo di giurisprudenza abbiamo se più o meno progressista o conservatrice in questo terrei a essere adesso non vorrei essere che il termine fosse prendito però realista non ci trovo nulla di male nel prendere atto che le cose che vanno così come dire poi un altro discorso è che certe scelte ci vadano bene o no sulla questione le questioni sollevate da Aldo allora sono in realtà più di una la prima riguardo tema della connessione necessaria o meno allora sono d'accordo con te che poi anche le parti non linguistiche possano essere formulate o formulabili questo mi sembra come dire che però aiuti se vogliamo quella che è l'idea di dire è un elemento essenziale rispetto a quelli che sono i diritti vigenti cioè oggi se noi guardiamo quelli che sono i diritti vigenti la maggior parte della parte formulata è linguistica quella non linguistica potrebbe essere formulata comunque in forma linguistica il che però è storicamente contingente in questo senso noi potremmo immaginare dei modelli di diritto forse sul piano che non utilizzano completamente a livello di formulazione segni linguistici pur essendo formulabili in segni linguistici ma non sono i diritti vigenti sono altre forme diciamo di diritti che ci possiamo immaginare però come dire la sensazione che per il diritto sì io di questo ecco su questo punto forse che era la seconda parte gli esempi anche diciamo di storia eccetera a me sembra rilevante che poi queste ipotesi però siano ipotesi letterarie cioè come dire il diritto francese alla fine non è quello il diritto italiano alla fine non è quello ce le troviamo nelle novelle quindi è parte del diritto vigente i gesti del vigile fanno parte del diritto della strada sono diritto vigente e non sono linguistiche ma infatti questi io li comprendo esatto ma nella parte iniziale ho detto che tutti questi elementi sono sono una parte ma non elementi peculiari che semmai confermano che però sulla base di solo questi oggi la complessità di una comunità non riuscirebbe a essere regolata il che non significa che non esclude che ci siano anche tutte queste componenti che sono assolutamente essenziali scusate io devo proprio fare come Santippe no? cioè mentre Platone parlava della teoria delle idee quella dicea basta perché si stanno raffreddando le orighe e più o meno è questo che devo fare anche io è stata una sessione densa interessante sono emersi molti temi ma secondo me non troppi temi cioè c'è la possibilità di collegarsi concettualmente su queste cose perché poi se ne saltano fuori troppe diventa veramente difficile mi corre l'obbligo di dare due avvisi il primo è che i lavori riprenderanno domani in questa stessa aula ad ore 10 con la seconda sessione e l'altro avviso